Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto se anche tu come me lo sei iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno e ti ringrazio. Oggi ti parlo di Honda Varadero 1000 del 1999, prima di partire però voglio salutare l'amico Warner che ha contribuito attivamente allo sviluppo del canale ed è un meccanico d'auto che ha restaurato il suo Malaguti MRX 50 del 1989, la sua officina di riparazione si chiama Auto, si chiama WM Auto Service, si trova in via San Michele 15 a Briccherasio in provincia di Torino. Te lo dico perché se contatti in modo immediato anche in questi giorni comunque c'è uno sconto del 10%, il telefono è 338 22 39 795 e ti presenti naturalmente a nome del canale. Quindi parliamo di Honda Varadero Comitano Anticipato che viene presentata al Salone Motociclistico di Monaco nel 1998. Il nome di Varadero si riferisce a una ben nota spiaggia di Cuba ed è la prima versione che viene definita come una adventure touring, quindi una moto che si caratterizza per avere delle peculiarità che riguardano l'avventura però allo stesso tempo anche il turismo, quindi quello che poi diventerà un filone comune insomma a tante case costruttrici nasce appunto con questa Honda Varadero. Si tratta quindi di una moto concepita per i lunghi viaggi però con cui si possono anche percorrere dei tratti in fuoristrada. Quindi vediamola a questo punto in questa immagine che la presenta notiamo subito delle caratteristiche peculiari, quindi l'ampia protezione aerodinamica, il fatto che abbia la sella molto comoda sia per quanto riguarda il pilota ma anche per il passeggero e lo scarico rialzato e inoltre insomma più si guarda, si osserva, più si vedono peculiarità che richiamano anche il fuoristrada, ad esempio questa protezione anteriore davanti al motore che consente appunto di fare dei percorsi anche fuoristradistici pur avendo però delle ruote in lega leggera. Quindi una moto che appunto possiamo a ben ragione definire come una touring ma adventure touring, filone che poi si andrà a evolvere negli anni successivi di cui attualmente godiamo di tanti modelli. Ma torniamo al motore che è un bicilindro in linea AV di 90 gradi con una cilindrata di 996 cm2, distribuzione di albero, quattro sono le valvole per cilindro e l'affreddamento è a liquido, la potenza massima di 94 cavalli a 8.000 giri al minuto ed è con una coppia massima di 98 Nm a 6.000 giri al minuto. Il telaio è definito come romboidale ed è in acciaio con una forcella telescopica con escursione di 155 mm, la sella alta a 825 mm a terra, molto comoda, ripeto, molto ampia. La sospensione posteriore è poi formata dal sistema ProLink di Honda con il monoamortizzatore regolabile in compressione nel ritorno ed escursione della ruota di 145 mm. Le ruote sono in lega leggera e sono da 19 pollici all'anteriore e 17 al posteriore. Passiamo all'impianto frenante con un doppio disco, vediamo un po' meglio qui, eccolo qui, doppio disco all'anteriore del 296 mm mentre il singolo posteriore del 256 mm. Il serbatoio è da 25 litri quindi molto ampia la capienza appunto per favorirne i lunghi viaggi, il peso secco di 220 kg abbastanza rilevante ma d'altronde è anche un 1000 di cilindrata. Se ti è piaciuto il video metti un like, se non ti è piaciuto metti dislike ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi. Prima grazie non ti costa assolutamente nulla ma favorisci la diffusione del canale e ti ringrazio. In secondo luogo faccio un video al giorno quindi sarai sempre aggiornata e aggiornato sui nuovi contenuti. qui sotto i tuoi commenti sono sempre molto graditi. Ciao, grazie per l'attenzione e buona serata. Ciao